Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Warhammer 40.000, il gioco di ruolo, Vrat and Glory, versione ultima uscita che vedete qui davanti, quindi il manuale assolutamente più aggiornato fra tutti i giochi di ruolo in ambientazione Warhammer 40.000, edizione localizzata nella nostra lingua da Need Games, che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione ed è sempre un grandissimo onore e piacere collaborare con voi. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Warhammer 40.000, Vrat and Glory, come detto qui davanti in edizione italiana a cura di Need Games, è un gioco di ruolo in ambientazione, ovviamente, Warhammer 40.000, quindi in quel futuro sadico, sanguinario, senza speranza e soprattutto ricco e pieno ceppo di guerra e di fazioni in battaglia, che è la spettacolare ambientazione di Warhammer 40.000 quella che, almeno per me, a livello di Warhammer 40.000, è l'ambientazione che mi è sempre piaciuta di più e mi è tornata molto alla riversa anche nell'ultimo periodo, anche perché fra Games Workshop e giochi, fra la nuova edizione Indomitus della Games Workshop e giochi di ruolo, nonché giochi da tavolo, sta uscendo una marea di robe e quindi mi è tornata la voglia bomba. In Vrat and Glory, a differenza di altri giochi, vi potrei citare ad esempio Rogue Trader della Giochi Uniti, lì si andava a interpretare un mercante corsaro, quindi l'equipaggio di una nave al comando, al servizio appunto di un mercante corsaro. Lo potete fare anche di qua, però in questo gioco potete fare, finalmente, si può fare tutto, qualsiasi cosa. Quindi vi prende la voglia di fare un mercante corsaro? Lo potete fare. Vi prende la voglia di fare un Adeptus Astartes, quindi uno Space Marine? Lo potete fare. Astra Militarium, quindi la Guardia Imperiale? Lo potete fare. Un Assassino del Culto Callidus? Un Tempestus Shon? Insomma, un opzionico, potete fare qualsiasi cosa. E i gruppi qui saranno più amalgamati, perché alla fin fine non sarete l'equipaggio, come detto, poc'anzi di una nave, però magari nel vostro gruppo ci potrebbe essere un giocatore che vuole fare l'Adeptus Ororitas, quell'altro che vuole fare l'Opsionico, poi magari c'è uno che vuole fare uno Space Marine Primaris, un Intercessor, e magari un altro ancora, non lo so, una Guardia Imperiale o qualcosa del genere. Quindi non è facilissimo mettere tutto insieme, lì serve un Game Master che conosca bene l'ambientazione, perché sembra un po' una barzelletta. Ora posso capire cosa ci facciano uno Space Marine e una sorella ospitaliera, quindi una detta Sororitas insieme. Però se andiamo a mettere uno Space Marine da solo, non con la sua legione o con la sua unità, e una Guardia Imperiale, oppure un assassino del culto Calidus e una detta Sororitas, fa un po' strano, o magari un inquisitore. Quindi deve essere il Master che riesce a creare il giusto gruppo, non tanto per il fatto che dia limitazioni, che è quello sbagliato da parte di un Game Master, però comunque che riesca a creare una storia credibile dove inserire tutte le voglie dei suoi giocatori e tutti i personaggi che andranno a creare. E Wrath & Glory ci dà la possibilità di giocare qualunque cosa ci piaccia nell'ambientazione di Warhammer 40.000, non escluso le razze Xeno. Quindi volete giocare un Eldar, lo potete fare, ma non ci sono espressamente le regole, però c'è anche scritto se volete fare, ad esempio, un cultista del culto dei Gene Stealer, dei Tirannidi, lo potete fare tranquillamente, oppure uno della Death Guard di Nargol del Caos, lo potete fare, qui c'è libertà d'azione a più che 360 gradi, potete inventare quello che volete. E questo manuale, come quello che vi ho fatto vedere poco prima di Warhammer Fantasy, nel vecchio mondo, è la perfezione, perché sono quei manuali che a me stanno facendo da morire, che a volte la fantasia è una cosa importante, perché senza fantasia non si andrebbe da punte parti e sarebbe difficile creare un gioco di ruolo. Però in questi manuali, a livello proprio di creazione del personaggio, non serve niente, c'è già tutto scritto, tutto quello che ti viene in mente, loro l'hanno già anticipato. E quindi c'hai libera scelta, ma già scritte, senza nemmeno andarti troppo a spremere le meningi, a cervellarti. Regolamento, tra l'altro, ora poi vi parlo dell'ambientazione, regolamento, semplicissimo, due note veloci, perché non è come quello di Warhammer, vecchio mondo, col tiro percentuali, qui abbiamo la classica abilità e caratteristica. Ad esempio, magari sparare va su agilità o destrezza, c'ho tre dadi da una parte e tre dadi da un altro, tiro sei dadi. La prova si supera quando sul tiro di un dado, che viene data una classe difficoltà dal game master, una classe difficoltà tre basi, si può arrivare anche fino a nove, dodici, cose del genere, per cose impossibili, quindi da farlo con sei dadi sarebbe quasi fuori di testa, si va a fare un tiro e ogni quattro e cinque sul dado è un successo, ogni sei è invece un successo critico che può portare più danni, può essere scambiato per punti gloria da affidare al gruppo per fare azioni particolari come ritirare dadi, o può valere come un doppio colpo. Quindi se tiro un quattro, un cinque e un sei, non ho fatto tre risultati ma hanno fatti quattro, perché sei di base conta come due. Quindi se la prova aveva difficoltà tre io ho colpito, posso usarli per fare incrementi e cose del genere, ma bene o male il regolamento è questo, non c'è più il tiro contrapposto di Warhammer Vecchio Mondo, dove io tiro la mia abilità di combattimento, ti tiro la tua e guardiamo se ci becchiamo. Qui no, qui questa volta ci sarà sempre una classe difficoltà da superare, classe difficoltà che nel caso del corpo a corpo è invece data dalla resistenza del personaggio e dall'armatura, ma questo anche per gli scontri a fuoco, perché sicuramente è più facile passare una a petto nudo o con un'armatura leggera della Guardia Imperiale rispetto a un'armatura Mark 10 degli Space Marine Primaris, quindi quello sarà sicuramente più difficile da perforare. Resilienza che va nel complessivo resistenza del personaggio più armatura, che ne so, resistenza 3, armatura 6, in tutto c'ha 9, sottrarrà sempre 9 danni al danno che gli avete fatto dopo aver colpito. Ogni arma c'ha un danno standard, più altri dadi che si possono tirare per incrementare, insomma il gioco è molto facile, non mi vado a descrivere troppe regole perché comunque è veramente semplice, basta una volta la lettura. Per quanto riguarda l'ambientazione, è bellissima perché è ambientato nell'Impero Nihilus, che dopo questa grande fenditura, che è l'ambientazione del nuovo Ramber Indomitus, se avete letto il regolamento, la crociata portata avanti da Robot Gilliman, che si è risvegliato come primarca degli ultramarini e che ora guida proprio l'Adeptus Astartes in toto, non soltanto avendo scritto il Codex Astartes li guida tutti quanti i capitoli, ma è molto bello perché c'è stata questa fenditura nel warp, e questa fenditura nell'Immaterium nel warp ha distaccato completamente la luce dell'Astronomican, che sarebbe il faro dell'Imperatore, cui i navigator delle navi delle flotte appunto seguono per trovare la strada per tornare a caso, comunque per navigare nell'Impero eretto dall'Imperium appunto dell'Imperatore. E la cosa bella è che c'è stata questa fenditura che ha tagliato il nostro sistema solare, o comunque tutti i possedimenti dell'Imperatore, da questo nuovo Impero. Quindi è come se, molto, ragazzi prendetelo molto fra grandi linee e grandi note, come se l'Universo o comunque le varie galassie fossero state divise in due da un muro e non c'è più contatto fra una e l'altra, quindi l'Astronomican non si vede più, non è più possibile fare i viaggi nel warp perché anche i navigator non sanno dove andare, non vedono la luce, il faro dell'Imperatore e l'Astronomican, quindi non sanno navigare nel warp, si perdono e il Slenish e tutti quanti l'idea del caos se li pappano. Quindi è un'ambientazione bella perché da soli tre anni, non da 30.000, non hanno voluto esagerare, da tre anni si è creata questa fenditura e loro dalla parte dell'Impero Nilus sono sopravvissuti, però l'Impero, quello della Terra, comunque del nostro sistema solare di Sol, non sa cosa è successo di là, se c'è ancora qualcuno. E loro di là si stanno organizzando perché dicano ma l'Impero esiste ancora dopo questa fenditura o magari il caos se l'è devorato. Quindi anche a livello di ambientazione è bellissimo perché ti fa sentire oltre le linee nemiche e ti fa sentire dall'altra parte disperso nello spazio, un po' l'ambientazione di Alien, nessuno ti può sentire urlare, te sei di là con qualcosa che dopo tre anni sta cercando di sopravvivere alle flotte aliena, agli orchi, ai Tau, agli Eldar, tutto quanto, ma dall'altra parte l'Impero esiste ancora o siamo gli ultimi rimasti? Ed è veramente molto bello. In conclusione ragazzi è uno spettacolo bellissimo, un lavoro disumano, pieno zeppo di disegni, pieno zeppo di colorazioni, una valangata di pagine, anche troppe di lore, che bellissimo. Un manuale che è preso, comprato, sfogliato, letto, facilissimo, vi entrerà in testa facilmente e c'è tutto quello di cui avete bisogno per giocare a Warhammer 40.000. Unica cosa che secondo me potevano un attimino stringere, però, piccolissima parentesi, i regolamenti, o almeno io ho sempre fatto così con il mio gruppo di gioco, i miei gruppi di gioco, se una regola non vi piace o la lasciate perdere o la modificate, ma c'è scritto anche nei manuali stessi, se una regola che abbiamo creato vi distrugge il divertimento, cambiatela, levatela, annullatela. Cioè, il gioco di ruolo è bello perché ti deve portare sia alla fantasia a creare qualcosa, ma se le regole create sono o troppo difficili, o una regola non ti garba, cambiala, prima di soffri, magari se no cosa fai? Butti il regolamento e ne compri un altro? È meglio limare un po' quello che già hai. E questo regolamento ci viene incontro. L'unica cosa, forse leggermente, un pochino più complessa è che per il fatto che fra tutti i dadi che tiri ce ne deve sempre essere uno di un altro colore. Quindi se ne tiro due, uno deve essere di un altro colore, sempre solo dadi da sei. Se ne tiro uno, deve essere quello, appunto, speciale, che è un dado per i tiri critici. Se faccio uno, è un successo, ma con un po' di fallimento. Se faccio sei, è un critico. Però questo dado, che poi lo puoi trasformare in punti gloria, che lo puoi usare per fare più azioni, che lo puoi usare per incrementare il danno, che lo puoi usare per ritirare dei dadi, oppure che lo puoi usare per fare un doppio colpo invece che uno, ci può fare troppe cose. Ti serve sempre di avere il manuale sotto mano per fare. Vediamo un po' come lo posso convertire questo dado. C'è un po' troppa matematica, però lo potete tranquillamente fare, che quando esce un sei è un doppio colpito. Quindi, voglio dire, finito, regola limata e messa a posto. Parere personale, magari sono io un po' duro e limitato in queste cose, ma per me il gioco deve essere veloce. Un mi devo fermare a mezz'ora per fare un combattimento. Quindi, c'è solamente da capirla. Comunque, regolamente è facilissimo. Io ringrazio Need Games per avermi offerto questa copia per la recensione. Grazie, ragazzi. È veramente stupendo ed è veramente come lo volevo e me l'ero immaginato. Se lo volete ordinare, primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor, al miglior prezzo sul mercato. Usate sempre il codice sconto CORIDAN7 per avere un discount e lo sconto pari al 7%. E se superate la spesa di 79 euro, spedizioni postali in 48 ore in tutta Europa, gratuite senza spendere nemmeno un euro. Se il gioco lo trovate in lista, ma è finito, o proprio non lo trovate in lista, voi comunque scrivete al supporto della Gioco Libreria Semola e Corrado, il proprietario, vi risponderà e farà il possibile per trovarvelo, anche se non c'è la lista, al miglior prezzo sul mercato. Vi ricordo, anche in quel caso, usate il codice sconto CORIDAN7. Fatemi sapere cosa ne pensate e se volete giocare a Warhammer 40.000, ragazzi, senza offesa, davvero meglio di questo. Per ora non ho visto. Spettacolare e vi dà libertà di fare qualsiasi cosa. Ciao ragazzi, alla prossima.